Buongiorno, io mi chiamo Villanova Stefania e oggi volevo parlarvi del mio romanzo Veramente Noi, pubblicato dalla casa editrice Edizioni del Loggione e inserito nella collana R come Romance. La protagonista del mio romanzo si chiama Vera ed è la giovane commessa della libreria lo scrigno. Vera è una ragazza timida e introversa all'inizio del romanzo, però attraverso l'amore per la poesia si trasformerà in una splendida donna, aiutata e sostenuta anche dagli altri personaggi che gravitano attorno allo scrigno. Prima fra tutte Teresa, la proprietaria, che attraverso l'amore per i libri ha trovato la forza di andare avanti dopo un grande dolore. Oppure Eugenio, un cliente un po' in là con gli anni ma che ha mantenuto il cuore ancora giovane e non ha mai smesso di credere nell'anima gemella. E infine Maurizio, un ragazzo all'apparenza freddo però che da molto tempo si porta un peso nell'anima che finora gli ha impedito di aprirsi all'amore. Dall'intreccio di tutti questi personaggi e di molti altri nasce il mio romanzo Veramente noi che spero vi piaccia. Buona lettura!